Ieri sera sulla Cilentane è avvenuta una tragedia che ha visto protagonista Giovanni Ambroso, un uomo di 49 anni, di Futani. Ambroso è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada per soccorrere un'automobilista in panne. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, durati oltre mezz'ora, non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato dichiarato. Il figlio quindicenni di Ambroso era con lui e ha assistito alla tragedia. Nessun'altra persona è rimasta ferita nell'incidente, tuttavia una donna a bordo del veicolo coinvolto è stata trasportata in ospedale non per ferite, ma per uno stato di sciò. Grazie per la visione!